Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like Delia Duran cambia idea, vuole mollare Alex. Colpo di scena clamorosso nella casa del grande fratello Ecco che cosa ha dichiarato la giffina. I fan sono increduli Delia e Alex.La modella venezuelana ha preso la sua decisione, scaricare definitivamente Alex Belli Nessuno si aspettava una cosa del genere. Colpo di scena nel bunker di Cinecittà. Delia sorprende tutti.Nonostante sia entrata in gara più tardi rispetto agli altri concorrenti, Delia Duran è considerata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del grande fratello V Duran.Di Lei se n'è parlato fino alla prima puntata del reality Personaggio principale di un triangolo amoroso costruito dal suo compagno Alex Belli e dall'ormai ex geffina Soleil Sorge, dopo l'espulsione agli inizi di dicembre dell'ex attore di Cento Vetrine, la Duran è entrata in gioco Il pubblico ha immediatamente empatizzato con lei e con la sua situazione personale tanto che, nel giro di pochissime settimane, la modella venezuelana ha conquistato il cuore dei telespettatori che l'hanno voluta come prima ufficiale finalista del GF Oggi Delia si contende la corsa al Montepremi finale insieme a Lulu e Davide Come sappiamo, la storia d'amore tra Alex e Delia è una delle più tormentate mai viste Delia e Alex.Nonostante i due sembrino pronti, una volta che anche Delia sarà fuori dalla casa, a viversi senza problemi, arrivano delle parole molto forti che rimescolano le carte in tavola, la Duran è pronta a scaricare Alex Belli e Duran.La GFina scarica Alex Belli.La storia d'amore tra Alex Belli ed Elia Duran non ha mai convinto del tutto i telespettatori Troppi alti e bassi, troppi tira e molla e poche verità.Nel corso dell'ultima diretta Alfonso Signorini ha chiesto alla Duran se, fuori dalla casa, abbia intenzione di continuare a vivere la sua storia d'amore con Belli e se, in caso di vittoria, fosse disposta a condividere il suo Montepremi con il compagno Delia Duran.Ad entrambe le domande la GFina ha risposto in modo affermativo, salvo cambiare poi idea qualche ora dopo Le telecamere hanno ripreso infatti la modella venezuelana intenta a discutere con Barru e fare delle affermazioni piuttosto forti Parlando con il suo coinquilino, la GFina ha dichiarato che prima provava un sentimento immenso per il suo compagno e l'idea della separazione da lui era quasi inaccettabile Oggi la situazione è diversa ed Alex Belli è per lei letteralmente indifferente La modella è pronta a scaricarlo in qualsiasi momento. Ha affermato che in caso di rottura, può continuare tranquillamente a vivere anche senza di lui e farsi una nuova vita in quanto potrebbe stare con chiunque Come prenderà Belli queste parole? Ci sarà un unesimo confronto tra i due? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video